Oggi io e Pepito proveremo a farvi rilassare un pochino, è il mio primo video ASMR, quindi se faccio qualcosa di sbagliato insultatemi pure. Buon day, io sono barbuto, ma non ho la barba, e lui è Pepito, il mio riccio. Facciamo portare le portate di Pepito, un appetito Pepito, mi sono munito di un asciugamano, perché lui ha tanto il vizio di cagare, lo sapete? Ecco che si è già avventato, gli ho dato dei croccantini del mancime e della banana. Buon appetito Pepito, qua c'è anche dell'acqua, non far cadere l'acqua Pepito, qua c'è l'acqua. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Beppito Fabio Cassino di me, mentre mangio. Mi scuso già in anticipo da parte sua, perché sono sicuro che cagherà durante questo video. beppito. Buon appetito. Buon appetito. Beppito si dice verso l'acqua. Beppito. Non ha sete, si avvicina sulle banane, non le vuole. Si sta preparando per cagare secondo me, io mangio. Pepito vuole il mio hamburger, eh no Pepito queste robe ti fanno male, ecco però qua c'è la banana, niente, cosa c'è? Non c'è il mio, non c'è il mio, non c'è il mio, non c'è il mio. Facciamo portarvi a questa portata, Pepito ci ha deliziato, con la sua pepia e la sua canta. Non c'è il mio, non c'è il mio, non c'è il mio. Non c'è il mio, non c'è il mio, non c'è il mio. Non c'è il mio, non c'è il mio, non c'è il mio, non c'è il mio. Circa la tetra. Qu sympa. The cause sa collierette si è iniziata o proie calamità in casa. Questa börja le。 Bebito, ho rovesciato l'acqua, forse ora bevi. Bebito, il panchetto è tutto tuo ora. Io e Bebito vi salutiamo, ciao, ci vediamo in un prossimo video.